Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In giornata la Covizoc comunicherà alle società che non sono in regola con l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Le squadre che non sono in regola potrebbero essere più di una e forse anche meglio così. In caso di esito negativo, tutte quelle squadre escluse avranno la possibilità di fare ricorso entro il 6 luglio al Consiglio federale della FIGC, in cui verranno resi noti i nomi delle squadre ammesse ed escluse dal campionato 2022-2023. In caso di ulteriore semaforo rosso, il Teramo avrebbe la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI e poi successivamente in sede amministrativa anche al TAR. In questa prima fase potrebbe il diavolo farsi assistere dall'avvocato Mattia Grassani, che ha anche grande esperienza nell'ambito del diritto sportivo e in questo tipo di ricorsi. Sempre oggi, nel primo pomeriggio alle 15.30, ci sarà anche l'Assemblea dei Soci, in cui Massimo Chierchia dovrebbe presentare le proprie dimissioni come amministratore unico e al suo posto potrebbe entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione Davide Ciaccia e un altro nome che non è escluso che a sorpresa si tratti di Giuseppe Spinelli. L'Assemblea si svolgerà in modalità da remoto presso il Gaetano Bonolis e sarà lo stadio di Piano Daccio la nuova sede del CDA. I tifosi del Teramo debbono comunque rimanere fiduciosi perché la permanenza del Teramo nella categoria sarà oggetto di una lunga battaglia legale, difficile ma non impossibile da superare, fino al TAR in sede amministrativa e al Consiglio di Stato in appello se ce ne sarà bisogno.